ben ritrovati con sdm news il primo tg degli sport outdoor di montagna che questa settimana va in onda da race dalla patria dell'ocialpinismo per una puntata tutta schiala partiamo però dai mondiali di villar su roll on con una coccente delusione in casa italia la prova team una gara che sembrava già scritta per vari motivi è stata vinta da remy bonnet e marty werner solo argento che poi è tanta roba per gli azzurri michele boscacci e robert antonioli oggi gara coppie per me oggi è stata una bellissima gara ho fatto una fatica tremenda purtroppo in fondo la valle era veramente caldo e umido e per me quel caldo umido lì e fa veramente la differenza e non mi fa ingranare le marce che vorrei magari un po pagato anche perché ho fatto tutte le gare la gamba non girava come voleva per fortuna invece il mio socio aveva quella grinta in più oggi è riuscito a darmi una bella mano tirandomi col cordino e riuscire a farci arrivare ancora sul podio io una certa vedevo difficile anche la medaglia di bronzo a dirla tutta pensavo di uscire dal podio sempre nella gara team un argento ma dal sapore molto più dolce per alba de silvestro e giulia murada una gara coppie particolari come sono stati particolari tutti i percorsi delle gare di questi mondiali però alla fine sono comunque gare la gara era così e quindi come ci siamo adattati nel vertical ci siamo adattate a questa gara coppia io sono super contenta di questo risultato era difficile per noi oggi andare anche solo a cercare un podio e un secondo posto così vicino al primo non ce lo saremmo mai aspettato quindi super giulia figata basta andiamo a festeggiare gli azzurri hanno però chiuso in bellezza con la rili qui la squadra composta da nadir maghe nicolo canclini robert antonioli e michele boscacci ha dato spettacolo salendo sul gradino più alto del podio gara staffetta veramente emozionante è partita una grande francia con la svizzera che hanno preso un po di vantaggio sulla sul primo cambio è stata tutta una gara in recupero e secondo me sta veramente spettacolare anche per gli spettatori perché la medaglia d'oro si è stata giocata fino all'ultimo centesimo direi veramente una gran performance del gruppo italia una bella squadra io sono super felice di chiudere questo mondiale in questa posizione con la medaglia d'oro al collo della relais e che dire spettacolo da villar su roll on ad ares bofort per la pierramenta una pierramenta che ha visto vincere valentè in favre a didier blanca al maschile letizia rue severin poncom nella gara in rosa bene molto bene sono andati gli azzurri al secondo posto si sono piazzati boffelli insieme a barazzuoli c'è anche stata una pierra un po atipica una pierra di percorsi b ma non per questo una pierra meno meno dura perché comunque penso che 10.000 metri in quattro giorni li abbiamo sempre comunque fatti con condizioni di neve dalle dalle più disparate partiamo dal primo giorno nevicata pioggerellina tanti pezzi a piedi da correre in basso una traccia abbiamo chiuso abbiamo chiuso secondi a pochissimo a decenni secondi da dei francesi secondo giorno è il giorno della tappa delle grandi bollite quella classica lunghissima eterna e lì all'ultima salita c'era veramente cadaveri in giro e in qualche modo si è riusciti ad averla meglio su favre e blanche proprio all'ultimo giornè e gli abbiamo preso quei 30 secondi che siamo passati primi invece ieri è stata la diciamo la tappa meteorologicamente più difficile pioggia giù basso neve in alto condizioni veramente al limite ma abbiamo fatto una bella c'è una tappa si è fatta comunque la quarta tappa invece siamo partiti motivati almeno da mettergli un po di pressione poi cavolo magari sbagliavano sbagliavano loro invece hanno fatto tutto tutto perfetto noi abbiamo fatto il nostro e alla fine abbiamo chiuso secondi si può dire che noi siamo l'emblema della regolarità perché abbiamo fatto su quattro giorni abbiamo fatto sempre secondi di tappa comunque dai sono contento è andato tutto bene e comunque la pierra è sempre una pierra per noi un argento anche nella gara in rosa con nicolini valmassoi pierra menta ultimo giorno giornata stupenda tantissima gente 2650 metri e oggi abbiamo chiuso quarte ma in classifica generale abbiamo fatto seconde con martina e super felici così dai anche per questa settimana è davvero tutto il nostro consiglio in gara non cambia al termine dell'ultima salita veloce i cambi e già bomba in discesa ciao 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 ciao